Metafisica Metafisica nel linguaggio comune passa per essere sinonimo di speculazione totalmente astratta, oltre ogni dimensione di sensibilità, di corporeità e di concretezza. Metafisica vale esattamente per l'opposto. È riflessione e considerazione dell'ente in quanto ente, della cosa, dell'essente in quanto essente. Naturalmente per considerare l'essente in quanto essente è necessario considerare anche le forme attraverso le quali noi lo concepiamo. E quindi è necessario che metafisica significhi anche epistemologia, significhi anche gnosiologia, cioè l'indagine delle forme del nostro intelletto. Ma nel momento stesso che noi consideriamo le forme del nostro intelletto, dobbiamo considerare il nostro esserci, perché noi non siamo soltanto intelletto. siamo anche ragione per dirla con Kant. Siamo anche giudizi sentimentali, giudizi di gusto, perché appunto l'uomo è una totalità di dimensioni. Quindi metafisica è la comprensione di tutto ciò che riguarda l'essente e la comprensione dell'essente a partire dal nostro vederlo.